non ti credevo un codardo edward fatti sotto quale arroganza ho sempre saputo che non ce l'avresti mai fatta per te è finita non fare presto prima che scappi ho detto mai non lo merito perché adem la tua morte mi è utile niente di personale beh forse anche un po' personale sei sempre stato un problema in fondo ma noi combattevamo insieme un tempo forse ma non più o hai scordato ciò che hai fatto tutti quegli innocenti massacrati e per cosa non si arriva alla pace facendo ricorso alla violenza sbagli se solo avessimo usato la spada più spesso quando serviva il mondo sarebbe un posto assai migliore quest'oggi e in questo caso con quanto addio edward tradiz橋 no 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 Grazie a tutti.